Il superamento del limite Che differenza c'è tra conoscenza, consapevolezza e comprensione? Commento La conoscenza è il primo gradino dell'evoluzione, che è il riconoscimento di un limite. La consapevolezza è il secondo gradino dell'evoluzione, per cui capiamo che il limite, fino allora vissuto come esterno, nella realtà, appartiene anche a noi stessi. La comprensione è il terzo gradino dell'evoluzione, che è il superamento del limite.